Ci siamo? Partite le cavalle del Nogara 2014 Nelle prime fasi colgono un bone break Salar Hart all'interno Grandubote che passa, veloce anche Lady Dutch a ridosso Ocean Spirit Di fuori invece rimane Ming Zikosmos con attrazione e poi Konkan, Kautoria, Hattie che chiude il gruppetto Grandubote in vantaggio, a suo fianco gradualmente prova a portarsi la stessa Lady Dutch con le maniche cap rossi A largo di tutti in giù un barancio Salar Hart in seconda linea alle spalle delle prime, galoppa a trazione con il cap Fuchsia A suo fianco in bianco rosso e verde Ocean Spirit che tiene a largo in giù un barancio con le stelle gialle la favorita Ming Zikosmos Si riportano sotto anche Hattie per vie interne, la grigia a suo fianco Kautoria con il cap giallo, a largo invece rimane la grigia Konkan Un gruppo compatissimo con Grandubote che subisce la fondo di Lady Dutch poco prima del primo traguardo A largo muove invece Ming Zikosmos su Salar Hart, la segue Konkan, di dentro a trazione che c'è il carbuco Ming Zikosmos che attacca e tende a passare all'esterno Konkan, si fa sotto anche Hattie Poi ancora la stessa Salar Hart che rimane in quota, Ming Zikosmos da sola al comando sul resto del gruppo Ocean Spirit che adesso prova a pungolarla ma Ming Zikosmos tiene botte e conclude Mentre Ocean Spirit è a seconda solo di Dacia che è rimasta in quota per il terzo Nessuna sorpresa con il successo di Ming Zikosmos, Umberto Rispoli che colpisce il ritorno a San Siro Per il signor Theo Hacking, ai colori, Nicolas Clement al training Era difficilmente battibile sulla carta, Ming Zikosmos ha vinto però eccole lì Per il signor del signor Grazie a tutti.